cambio vestito ho detto io te l'ho detto io posso anche distrarla io sto andando via ancora dietro cos'è la questo la sto distrando si ok si è paralizzata trovane un'altra vuoi il capello non importa poi la raccogliamo una pirluna una pirluna prendi i leggi del capello e poi lancialo prendi e lancialo avvicinati ecco così accovacciati un po' cosa stai facendo? con i piedi non confondetela si ma lo vedo io va bene guarda qua bello sguardo come no? guarda qua che bello sguardo bello guarda l'ugelino guarda l'ugelino guarda l'ugelino guarda l'ugelino guarda l'ugelino gladi guarda l'ugelino guarda l'ugelino guarda l'ugelino guarda l'ugelino arno guarda l'ugelino si è un po' i piedi è un gesto grandissima ti prego si lo so aspetta l'ho beccato solo quando l'ho visto qua ok cambiamo scenografia aia alla gonna non mi sti piedi ai tatti cosa devo fare? no, Betta, sai che la tua schiena è bella ma anche no ma anche basta dirlo facciamo un po' con la tua schiena vediamo io sto beccando anche il tipo che ignora i pattini non lo so se avete in mente qualche passo faccelo pure guarda ma non guardare ci si vede tutto è bellino è bellino non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ne voglio una con Ramona dopo tu cosa? che bellino che ora sei tuo è beccato non c'è non c'è non c'è ma anche i vostri eh? no, fino a cosa sto riprendendo i piedi no no, troppo indietro sei un uomo andavi un uomo c'avevi solo il gozzo in vista è vero c'era Dani con la testa così e tu la testa ce la vieni tu è terrificante e pescista il gozzo no il gozzo è terrificante